Eccoci, voi ritrovate il studio da Robert Matti di 1989, questa qui è la 27esima parte E' un studio da Robert Matti di 1989 e dobbiamo giocare, la prossima parte saranno gli highlights della partita contro il Don'ts di ritorno Volevo farvi vedere un attimo i moduli che ho usato quest'anno Questi qui li ho creato io, 5-2, quelli usiamo sempre 4-2-4, 5-3-2, 5-5-0 per sicurezza quando si vince 3-3-4, 4-2-4 3-5-2, 4-4-4, 4-2-2-2, 3-4-3 e questo qui è un altro 3-4-3 E va, faccio con questa qui finisce la 27esima parte, un saluto della Robert Matti di 1989 tempi Grazie, continuate a seguirci